allora dicevamo riprendiamo da qui il discorso della volta scorsa da questa figura in cui si vedeva nella parte qua a destra che le pagina html cioè i contenuti dei siti web così come vengono visti gli utenti sono in realtà generati da un software che è la vera propria applicazione web che stiamo costruendo e avevamo visto dato un'occhiata quali erano i linguaggi di programmazione più utilizzati dicendo che ovviamente queste statistiche dipendono dal contesto in cui sono colte se vogliamo c'è solo un altro piccolo accenno che di questi linguaggi alcuni esistevano già e ma altri molti altri sono stati inventati apposta per il web del PHP è un linguaggio che è stato inventato nel campo del web e prima non esisteva a differenza di java che invece è un linguaggio che ha una sua storia e una sua esistenza indipendentemente dal web che poi ovviamente è stato anche adattato e usato per le applicazioni web tra l'altro java ha una caratteristica particolare che definisce è uno dei pochi casi in cui viene definito in dei documenti diciamo indipendenti standard quali sono le librerie che si usano per sviluppare applicazioni web ma non viene non ne viene fornita direttamente un'implementazione da parte del fornitore diciamo della virtual machine java che in questo caso è oracle ci sono delle specifiche che dicano l'architettura java enterprise per farvela breve è composta di questi moduli di queste librerie di questi package eccetera eccetera ci sono dei tomazzi così 200 pagine che vi spiegano quali sono le librerie ma non ve le implementano poi ogni venditore può implementare queste classi e vendergli la loro libreria che è compatibile con tutte le altre perché tutte queste implementazioni dell'architettura dell'architettura java enterprise devono essere conformi rispetto alle specifiche per cui vediamo che le stesse applicazioni java possono girare su delle librerie sottostanti che o sono in questo 50 per cento più in alto librerie open source questo progetto si chiama tomcat che è un implementazione libera gratuita di queste librerie oppure ci sono una serie di altri application server si chiamano che sono sviluppati da altre aziende banca di cui in mezzo c'è ancora qualcosa di open source altrimenti glassfish è il container della oracle weblogic è quello del web sphere è quello dell'ibm sì ibm e così via quindi ci sono una varietà di implementazioni diverse che sono relativamente equivalenti dal punto di vista delle funzionalità ma poi a livello architettuale siete voi che dovete scegliere se andare verso un prodotto open oppure verso un prodotto commerciale che fa la stessa cosa ma magari sicuramente costa di più ma magari offre già un certo tipo di supporto un certo tipo di tool di ausilio e cose del genere quindi l'ecosistema java è più complesso per questo motivo mentre gli altri linguaggi in realtà c'è chi inventato il linguaggio ne fornisce un'implementazione quella è appunto e basta ok questo livello logico questa applicazione web che deve generare le pagine come fa a sapere che cosa metterci dentro cioè io scrivo un programma che mi generi che sono una videata in cui posso vedere gli ultimi messaggi immaginiamo un'applicazione messaggistica tra persone ok allora il software può generare il titolo la pagina in colonna la lista la tabellina nelle quale compariranno i messaggi ma il contenuto per i propri dei messaggi come fa un software a saperlo deve andarlo a leggere da qualche parte in cui questi contenuti di questi messaggi siano effettivamente memorizzati e questi sono qua dove siamo qua e questo è il compito di una base dati uno o più basi dati che memorizzano e gestiscono le informazioni su cui i dati su cui questo sistema informativo lavora quindi è il compito principale della base dati c'è un posto un luogo in cui i dati sono memorizzati e una serie di metodi per poter interrogare o modificare questi dati quindi no questo si vede malissimo vediamolo da qui non può saltare perché per compensare la pazzia di quel proiettore allora abbiamo aggiunto qua alla figura di prima un'altra parte in basso destra che è un composto da due blocchi uno in basso è il database vero e proprio cioè il luogo in cui sono salvate le informazioni il database ovviamente viene gestito da un DBMS da un software che è un database management server non so voi siete abituati a usare dagli corsi degli scorsi anni MySQL oppure MariaDB oppure OracleDB eccetera questo è il livello di database server è un software che accetta delle query in linguaggio SQL e attraverso le sue ottimizzazioni è in grado di interrogare la base dati vera e propria che è un file, una serie di file che noi non possiamo toccare direttamente e restituisce i risultati quindi se noi torniamo dal punto di vista del browser il browser ha chiesto al server web dammi una pagina fornendole l'indirizzo il server web dice ah bello questo utente vuole una pagina però questa è una pagina dinamica quindi io il server web non so non ce l'ho la risposta devo passarla all'applicazione web alla web application che è il software che a questo punto saprà che è pagina generare questo è in grado sicuramente di generare la pagina ma ci mette dentro questa pagina dei dati che va a prendere dal database interrogando il DBMS con una o una serie di query SQL quindi ogni volta che noi facciamo un click immaginiamo che da qualche parte ci sono i dischi di un database che frullano come dei pazzi perché ogni singola pagina magari ogni dato, ogni scritta, ogni etichetta, ogni icona che è comparso nella nostra pagina è una query SQL che da qualche parte viene fatta per tirare fuori quel dato che a noi serve ok? e quindi questo dal punto di vista dell'asse dei tempi ci immaginiamo che l'utente al tempo 0 clicca su un link questo fa partire una richiesta HTTP dal tempo T1 che viaggia fino al tempo T2 arriva a questo punto al server web ok? quel pacchetto HTTP che abbiamo visto la volta scorsa arriva fino al server web il server web lo analizza e decide io non so rispondere perché è una richiesta di una pagina HTML dinamica e non è una richiesta di un file statico come potrebbe essere un'immagine ad esempio e allora questa richiesta la passo da T3 a T4 all'application server dentro l'intervallo di tempo tra T4 e T5 l'application server fa girare il programma scritto dall'utente scritto da noi che facciamo il sistema informativo il browser non l'abbiamo scritto noi il web server non l'abbiamo scritto noi l'application sì e questa application per poter lavorare dovrà fare una qui ho fatto più frecce per indicare che magari per costruire una pagina mi serve anche più di un'interrogazione fatta dal database uno per il titolo, per i messaggi, per il mittente per l'iconcina della faccia del mittente eccetera eccetera per sapere qual è l'ultimo momento in cui è stato online dice online dal 20-30 di ieri sera quello è un dato che posso ottenere ma devo fare un'interrogazione quindi per ogni singola pagina i vari dati, i vari elementi le varie informazioni che vado a piazzare nella pagina nei vari punti arrivano ad altrettante query fatte dal database quando poi l'application server ha tutti i dati che gli servono crea un bel file che è la pagina HTML e lo rispedisce indietro a chi gli ha richiesto che era l'application server il quale lo rispedisce indietro al browser il quale lo riceve e lo visualizza per l'utente poi lo visualizza non subito perché poi dovrà andare a reperire varie immagini ci ricordiamo la volta scorsa che una singola richiesta HTTP scatenava in realtà una ventina di altre richieste secondarie per andare a recuperare le informazioni aggiuntive a questo punto a T9 la richiesta è finita l'utente ha di fronte a sé una bella pagina web dimentichiamo per un attimo il caricamento delle immagini eccetera ci pensa la guarda la studia a un certo punto farà un click da qualche parte e il processo riparte da capo a T0' uguale identico ogni volta uguale io la linea T1 T2 cioè guardate l'ho fatta più ripida rispetto alla linea T7 T8 che invece è meno inclinata per indicare che solitamente la risposta è più lenta della richiesta a viaggiare per il semplice motivo che è più grossa la richiesta abbiamo visto che il pacchetto di HTTP request sono 10 righe 200 byte la risposta sono magari kilobyte decine di kilobyte di HTML di tutte le immagini di corredo e quindi una buona parte del tempo di caricamento sta nel tempo di elaborazione qua sotto e nel tempo di trasferimento dei contenuti che è qua sopra quindi il tempo effettivamente speso è da T4 a T5 dove c'è l'application server e il database che frullano per costruire la pagina e poi da T7 a T8 la pagina deve attraversare il mondo per arrivare fino al tuo computer se poi un computer è particolarmente lento e la pagina è particolarmente complicata beh il tempo T8-T9 è il tempo in cui il tuo browser fatica per disegnare la pagina questo è tanto per vedere a livello macroscopico che cosa succede quindi questa è l'architettura del web dicevamo al volo la volta scorsa 1995 94-95 in quegli anni lì qual è il difetto quello che oggi percepiamo come difetto e beh che io faccio click mi arriva una pagina poi faccio un altro click mi arriva un'altra pagina poi se riesco un dato faccio invia mi arriva un'altra pagina l'unica modalità di interazione con le applicazioni web di questo tipo che adesso chiamiamo web 1.0 era cambiare pagina passare una pagina successiva ricaricando tutto da zero non c'era nessuna interattività vera e propria una volta che la pagina è caricata posso solo guardarla e basta se cliccavo da qualche parte automaticamente partiva una richiesta e questa pagina veniva sostituita da un'altra pagina quindi effettivamente era una navigazione a pagine abbiamo voluto aggiungere io ho aggiunto una slide che non vedo più vabbè niente ero convinto di aver scritto un'ora fa una slide adesso vedo che non c'è più devo aver fatto casino prima allora che cosa abbiamo voluto fare abbiamo voluto dare della interattività in più a queste pagine web e questo l'abbiamo fatto attraverso un linguaggio che si chiama javascript cosa è successo? allora immaginate di essere qua sulla sinistra l'utente che è di fronte a una pagina web e noi vogliamo su questa pagina web fare qualche effetto interattivo che ne sono il menu che si apre che si chiude delle immagini che a carosello si alternano come è usuale in molti siti oggi oppure anche solo il fatto che non posso premere il bottone login se non ho inserito il mio login name e la mia password allora questo vuol dire che la pagina web si deve comportare in modo non standard il browser in html dà già un comportamento alle pagine fornisce già a ogni elemento della pagina un certo comportamento la casella di testo è qualcosa in cui ci posso scrivere un bottone è qualcosa che posso cliccare sempre perché è un bottone quindi la posso cliccare ma io dico di più io voglio che quel bottone sia cliccabile solo se qualcuno ha scritto qualcosa nella casella di testo se no quel bottone non voglio rendere cliccabile quindi voglio dire al browser si su questa pagina html fai le cose che devi fare ma in più fai dei controlli in più fai delle azioni in più come faccio a dirgli il browser non l'ho mica fatto io il browser è un prodotto standard tra l'altro l'utente può installare il browser che vuole per farlo io vado a dotare la mia pagina html di un programma scritto in un linguaggio apposito javascript che è dentro la pagina cioè è associato alla pagina e viene richiamato dalla pagina quindi io autore della pagina scrivo la pagina html ma scrivo anche il codice javascript che è in grave di dare delle funzionalità in più a questa pagina quindi fa parte della mia applicazione che implemento la differenza è che questo codice javascript non viene eseguito dal server qua nella colonna di destra ma viene spedito al browser attraverso una richiesta HTTP arriva al browser e viene interpretato da un interprete javascript che è dentro il browser ok quindi quando io vado su una pagina clicco mi arriva l'html l'html dentro di sé richiama le immagini e va bene e anche l'html richiama del file javascript questi file javascript sono dei programmi scritti in questo linguaggio e questi programmi vengono scaricati dentro il mio browser e il browser li esegue è la manna di chiunque scrive virus per il semplice fatto che tu visiti un sito il tuo computer scarica un programma che sta su quel sito e comincia ad eseguirlo è così lo stiamo facendo per fortuna il browser proprio perché questi sorgenti javascript non diventino tutti dei virus da delle forti limitazioni a che cosa questo javascript può fare limita le capacità del javascript cioè non gli da accesso a tutta una serie di cose poi se javascript non posso salvare un file su harddisk o leggerlo o cancellarti tutto l'harddisk non posso manca vedere se hai un harddisk nei due se nei quattro il javascript viene eseguito all'interno di una un interprete una macchina virtuale molto limitata separata logicamente dal resto della macchina proprio per ragioni di sicurezza perché stai eseguendo sul tuo computer il codice che ha scritto un altro un altro del sito che stai visitando a caso ok allora che cosa può fare invece questo codice javascript può interagire con il motore di layout della pagina quindi io scrivo l'html della pagina beh lo scrivo attraverso una pagina dinamica va bene mi scrivo il javascript a mano e so che questo javascript una volta che sarà caricato nel browser e anche l'html sarà caricato nel browser allora attraverso questo javascript posso modificare in tempo reale la pagina quindi non sto più dicendo cambio pagina la carica è una pagina diversa no modifico quella che c'è modifico quella che c'è andando a far sì che quando sposto il mouse in un certo punto un'altra parte si illumini si accenda si nasconda si sposti si ingrandisca tutti quelli piccoli effetti di animazione che ci possono essere oppure vado a intercettare sempre interagendo col motore del layout del browser a intercettare le azioni dell'utente quindi quando l'utente clicca su un bottone io devo capire se quel click accettarlo o no a seconda che il campo di testo sia riempito a vuoto oppure che abbia scritto il numero minimo di caratteri per inserire la password o cose di questo genere quindi evito di andare alla pagina successiva se l'azione che dovevo fare sulla pagina precedente non è completa non è corretta quindi questa accoppiata abbiamo l'html abbiamo il javascript col suo interprete e abbiamo una interfaccia standard che si chiama DOM che permette al codice javascript di interagire col browser DOM sta per document object model detto in italiano modello oggetti del documento cioè il javascript vede una serie di oggetti che corrispondono alle varie parti del documento ai link qui c'è un A ai titoli qui c'è un H1 al testo qui c'è elementi di tipo text e così via quindi se io vedo vivo dentro il codice javascript vedo la pagina web non come un file che parte dalla riga 1 riga 2 riga 3 in cui c'è il testo no questo file è già stato analizzato dal browser ha già fatto il grosso lavoro di capire come è fatto e mi dà già un accesso più articolato ai contenuti della pagina sotto forma di albero di oggetti adesso qui non entriamo nella programmazione quindi non ci interessa più di tanto questo albero DOM è standardizzato nel senso che tutti i browser ti offrono la stessa vista standard della stessa pagina HTML quindi se io ho un programma scritto in javascript e visito quella pagina web con Firefox Firefox prenderà l'HTML si costruirà i suoi oggetti interni che non sono non vedo non mi interessano per poterla visualizzare ma poi costruirà un albero di oggetti DOM a uso e consumo del codice javascript se io la stessa pagina la carico con Google Chrome Google Chrome farà la stessa cosa internamente lavorerà in modo sicuramente diverso ma costruirà un albero DOM che è esattamente lo stesso o quasi 99-300 quasi identico a quello che mi ha costruito Firefox in modo che lo stesso codice javascript che viene eseguito in due browser diversi in due contesti diversi in realtà si trova di fronte alla stessa rappresentazione semplificata ed astratta della pagina HTML è un gran casino mettere d'accordo a tutti ovviamente è stato perché poi ciascuno voleva dare la sua estensione ma al DOM aggiungo questo attributo aggiungo questo campo ma al javascript aggiungo una potenzialità in più eccetera e quindi c'è sempre una costante tensione tra i produttori di browser che per aumentare l'uso del proprio browser vendere di più cercano di aggiungere delle funzionalità nuove in più ma queste funzionalità nuove prendono piede solo se chi crea le pagine web e chi scrive i programmi javascript le usa queste funzionalità nuove in più e chi scrive le pagine web e il codice javascript le usa solamente se è sicuro che quella funzionalità funzioni poi su tutti i browser non solo su quello ma per funzionare su tutti i browser tutti i browser devono implementarli quindi devono essere standardizzati e quindi il tuo vantaggio competitivo nell'inserire qualcosa di nuovo va un pochino a farsi friggere quindi c'è una competizione barra collaborazione guardate su una serie di standard che ciascuno spinge avanti ricordate quelle frecce della prima della volta scorsa tante tecnologie che vengono via via aggiunte da qualcuno e subito tutti gli altri le accolgono o non le accolgono se per caso qualcuno aggiunge una tecnologia e tutti gli altri gli fanno una pernacchia quella tecnologia è destinata a morire perché non c'è per fortuna il monopolio dei browser qualcuno ci ha provato non ci è mai riuscito ok quindi questo per carità sono discorsi tecnici ma sul dom ma dietro l'evoluzione del web diciamo così ha delle dinamiche più di mercato che sono legate a filo doppio col modo con cui diciamo tecnicamente il web è realizzato c'è ancora un passo da fare quindi fino ad ora cosa siamo riusciti a fare siamo riusciti a fare quelle cretinate che ci sono che ne so sulla pagina del Politecnico no? dico cretinate perché non servono a niente cioè se tu ti sposti qua compaiono o scompaiono delle cose se tu clicchi qua e non è scritto niente beh purtroppo questo non succede ma potrebbe evitare di fare di andare alla pagina di ricerca no? se tu clicchi ok scompare questo campo e così via piccole animazioni sulla pagina piccole cose semplici evidenziazioni figure che in questo caso non so perché la figura hanno messo questa non cambia si vede che non avevano niente di nuovo da dire va bene vogliamo ancora fare due passi avanti vogliamo stiamo percorrendo la storia quindi abbiamo voluto ancora fare due passi avanti il primo passo è facilitare la fruizione della stessa pagina dello stesso sito in più contesti diversi voi non vi ricordate ma in quegli anni lì 95, 98, 99 era normale per un sito web che da qualche parte al fondo ci fosse scritto questo la risoluzione consigliata per vedere questo sito è 800x600 o 1024x768 cioè questo significa che gli autori del sito avevano progettato il sito per una certa risoluzione se tu avevi uno schermo più grande o più piccolo ti attaccavi oppure vedevi il sito storto oppure vedevi il sito tutto piccolo e poi bianco a destra oppure non ne vedevi dei pezzi dovevi continuare a fare scrolling avanti e indietro allora questo ovviamente non è accettabile a maggior ragione quando si sono cominciati a rifondere 2000-2001 i dispositivi mobili tra cui lui potevi navigare sul web e ogni dispositivo mobile che veniva tirato fuori aveva una risoluzione diversa allora chi progettava i siti doveva smettere di pensare come se stesse progettando una brochure di carta in cui dice so a priori le dimensioni e doveva cominciare a pensare in modo flessibile software quindi il sito quando si trova in un browser in quel momento scopre qual è la sua risoluzione e quindi la pagina si deve adattare alla risoluzione che ha a disposizione e al dispositivo che ha a risoluzione su un pc su uno smartphone su un tablet il sito si vede in modo diverso non è per magia è perché chi ha creato il sito lo ha predisposto perché si adattasse a contesti diversi per far questo è stata introdotta un'altra tecnologia che si chiama css cascading style sheets che è un metodo per permettere un altro linguaggio se si vogliamo per permettere a chi definisce una pagina web uno di definire dei layout complessi perché con l'html non si riuscivano a fare cose molto complicate tipo cose su tre colonne che scorrono indipendentemente eccetera in html non si potevano fare o quando ci riuscivi eri poi vincolato esattamente al numero di pixel e quindi facevano pena ma questi layout complessi si adattano a diverse soluzioni si possono adattare a diversi dispositivi si possono adattare a diverse preferenze sai il sito che dice lo schema di colore chiaro o scuro secondo di come preferisci possono adattarsi a diversi media per cui a volte no anche non so magari stai guidando immagina un'applicazione che fa il navigatore o ti fa vedere la mappa oppure te la legge ti dice anche quindi testo audio video che possono comparire l'uno oppure l'altro a seconda dei contesti tutto questo sempre in modo standard cioè implementato e supportato da tutti i browser tutti i browser anche quelli mobili ok allora cosa vuol dire vuol dire che quando io progetto una pagina non posso pensare a la versione web e la versione mobile perché web sono mille versioni diverse da chi ha che ne so il mac ultima versione con risoluzione 100 miliardi di pixel a chi ha invece lo smartphone scarsissimo da 80 euro che ha 22 pixel in tutto o giù di lì e non puoi pensare tutti i dispositivi che stanno lì in mezzo e per ciascuno pensare a un adattamento dell'interfaccia no devi dare delle regole generali del tipo se la risoluzione x è minore di tot il menu non mostrarlo in alto ma mostramelo a scomparsa se prendete un sito e andate sul sito mobile di solito il menu che nel sito web compare in alto nel sito mobile non esiste di solito c'è un bottoncino per farlo comparire quel bastardo di un bottoncino con le tre righezze orizzontali che dice ma che caso sono queste righe quello detto menù d'hamburger lo chiamano perché è fatto di tre strati e così via allora chi ha progettato il sito ha messo delle soglie dicendo al di sotto di una certa risoluzione l'immagine non la faccio più vedere o ne faccio vedere non ne sono ridotta oppure che ne so la parte che dice ultime novità non interessa non la faccio vedere perché tanto l'utente dovrebbe scrollare giù talmente tanto che non interessa eccetera eccetera quindi do delle regole applicate alle diverse parti di una pagina una parte di pagina può essere spostata o nascosta o visualizzata in un modo diverso a seconda delle caratteristiche del dispositivo in cui viene visualizzato e questo si fa attraverso un linguaggio dichiarativo in questo caso che dice per ogni parte della pagina espressa attraverso un sottolinguaggio di selettori non ci interessa non impararlo applico certe regole certe regole che si chiamano dichiarazioni e la dichiarazione va a impostare una proprietà di quell'elemento a un certo valore e le proprietà degli elementi sono 200 o più l'elenco completo che controllano ogni singolo dettaglio dai margini dai fondi dai colori dal fatto che sia visibile o no che sia più grande o più piccolo che sia allineato destra o sinistra che sia davanti o dietro tutto lo spessore del bordo il fatto che sia comparso o non comparso quindi visibile o nascosto eccetera eccetera quindi attraverso queste regole che poi sono personalizzabili dicevo rispetto all'esoluzione del device abbiamo la possibilità di creare dei layout complessi e adattabili che si adattano da soli cioè noi stiamo spiegando al browser come impaginare la nostra pagina non lo stiamo impaginando noi e quindi abbiamo aggiunto un altro ingrediente alla nostra figura in cui non devo solo creare l'html non devo solo scrivere il javascript che mi permette di animarlo ma devo anche scrivere i fogli di stile scrivo io che sto sviluppando l'applicazione ma tutte queste informazioni questi fogli di stile vengono interpretati dal motore di layout del browser che non non lavora più in modo fisso predefinito ma lavora secondo le regole che gli ho dato io regole che gli ho dato io che tra l'altro posso modificare dinamicamente attraverso il javascript quindi ho creato un bel casino a livello di complessità è come dire che dal c'è stato una decina d'anni dal 95 al 2005 diciamo a spanne in cui lo sviluppo il grosso dello sviluppo di tecnologie web sono stati sul lato browser il server non l'abbiamo toccato qua non l'abbiamo toccato niente i file javascript i file css per il server web non li legge neppure per lui sono file come fossero stati scritti in cinese non interessa è un file che lo prende e lo manda al browser questi contenuti non vengono letti interpretati capiti dal server web né vengono letti interpretati dall'application server no sono file che io scrivo ovviamente perché sono sviluppatore da questo lato ma verranno eseguiti da quest'altro lato sul lato client quindi stabilita la prima impalcatura web 1.0 dell'architettura lato server c'è stato un balzo in avanti sull'architettura del web lato client prima ho detto una frase dopo il javascript servivano altre due innovazioni due passi avanti uno è i fogli di stile quindi layout complessi anche belli da vedere perché no e autoadattanti l'altro passo è rimuovere l'ultima limitazione che è rimasta maledetta di che cosa può fare un programma javascript una volta che è caricato nel browser abbiamo detto prima che per ragioni di sicurezza un programma javascript non può fare ciò che vuole ma l'unica cosa che può fare è interagire e qui ha il pieno controllo con la pagina web attraverso il DOM quindi una cosa molto semplice che oggi c'è dappertutto e noi diamo per scontato l'autocompletamento quando comincia a scrivere le parole lui te le completa non si può fare così con questa architettura non si poteva fare dieci anni fa siamo nel 2005 2008 perché non si poteva fare perché il coge javascript che gira qua quando io scrivo sys s i s come fa a sapere che sistemi informativi è la parola che volevo scrivere tu dici e vabbè va a cercare un dizionario sì ma dov'è il dizionario qui non può starci il browser non ce l'ha il dizionario di tutte le parole che io vorrei scrivere o le parole che ho scritto in passato le parole più frequenti presenti sul sito l'elenco dei miei prodotti in modo in cui si possono chiamare un dizionario di parole perché? perché il javascript può solo leggere e scrivere ciò che c'era nell'html e allora ho deciso che ogni volta che un utente clicca su una pagina html gli scarico oltre all'html anche 3 megabyte di dizionario ogni volta ma non è ovviamente praticabile oppure devo permettere a questo maledetto javascript di poter leggere qualcosa che sta qua nei dati nel database perché non ho nessun problema a mettere un dizionario di parole con le frequenze con le preferenze eccetera dentro il database il problema è che devo permettere al soggente javascript in qualche modo di leggere almeno leggere ma poi magari anche modificare dei dati che stanno al di fuori del browser o al di fuori del browser ma non sul computer dell'utente perché altrimenti ho creato il virus devo permettere a un codice javascript che è prigioniero di un browser di poter comunicare con l'application server che è della stessa famiglia il javascript l'ho scritto io l'application server l'ho scritto io quindi se faccio casino faccio danni solo a me stesso hanno inventato un meccanismo per far questo adesso vi faccio vedere la figura poi torniamo indietro a commentarla hanno aggiunto alla libreria javascript una chiamata che si chiama xmlhtprequest ma non ci interessa che permette al motore javascript cioè al codice javascript che girano nel browser di fare delle chiamate web in più che non sono le chiamate web che fa il browser get dammi una pagina nuova ma di nascosto dietro le quinte la nostra pagina web fa delle chiamate al server chiamate che non vanno la cui risposta non torna al browser quindi non cambia pagina la cui risposta torna al codice javascript che l'ha fatto quindi oltre al la serie di chiamate web che sono già state fatte per caricare la pagina dopo che la pagina è caricata il javascript può fare delle altre c'è una limitazione di nuovo per motivi sicurezza può fare solamente allo stesso server da cui era stato scaricato il javascript quindi le può fare a se stesso può telefonare a casa e quindi questo permette di dire guarda che l'utente ha scritto sys come si può completare sys questa è una chiamata http che va al web server il quale passerà all'application server che avrà una funzioncina per rispondere apposta alla domanda come si completa questa parola e lo farà facendo un acquirio del database possiamo crederci o no ma se andiamo su google e attiviamo questa è la pagina di google l'abbiamo caricata con tutte le sue belle cosette fatemi cancellare queste cose e io scrivo qualche cosa qua sys s i s mentre scrivo lui sta facendo delle chiamate in più sys e e cosa succede? che man mano che vado avanti system lui ogni volta che scrive una lettera fa una chiamata al server dicendo guarda l'utente adesso la guardiamo quella chiamata l'utente ha scritto questo quali sono le parole possibili per completarlo e la chiamata è semplice nel senso che lui dice questo è la url che è stata chiamata google.it slash complete cioè la funzione di autocompletamento e da un po' di cose tra cui a un certo punto ci sarà scritto system eccolo qua non si legge perché il videoproiettore vi odia ma qui c'è scritto q uguale system che è esattamente ciò che io ho scritto in quella casella di testo sopra in alto quindi quando ha scritto la M lui ha fatto una richiesta chiedendo il javascript di google ha chiesto al server di google senti ma l'utente ha scritto system come si può completare? e il server di google ovviamente ha dato una risposta dicendo va si può completare con A ATS A Piemonte system A solare system A Puglia system A solar system A nervoso e così via e tutte queste informazioni che il server di google ha risposto il javascript se le è puppate e attraverso i css ha creato ha creato questo riquadro e dentro questo riquadro ci ha messo queste scritte quindi ha modificato dinamicamente la pagina web sulla base di dati che ha appena acquisito dal server interrogandolo in questo modo quindi ogni volta che noi tocchiamo qualcosa ci spostiamo dentro una pagina web di quelle moderne la pagina per sapere cosa fare molto spesso va a chiedere al server per fornire queste funzionalità che quindi permettono di avere dinamicità nella pagina quindi interazione eccetera ma potendo accedere a tutte le informazioni che è il server e se qui uno dice ma sì ma perché non potremmo mettere un dizionario di tutte le parole dentro il bra o dentro il computer forse per questo caso sì per la ricerca sì ma se immaginate il completamento di quando io scrivo l'indirizzo di mail di un amico a cui devo mandare il messaggio lui deve farlo sui miei amici non su tutte le mail del mondo quindi deve proprio essere il mio server che mi dà questa informazione ma questa è la funzionalità più semplice 2008-2009 è stata introdotta da Google e ha aperto il mondo a un nuovo livello di dinamicità del web che è quello che adesso chiamiamo web 2.0 che diamo per scontato sempre in cui carico una pagina web e quella pagina web si cresce si incrementa man mano che la uso senza mai cambiare sulla pagina rimango sempre la stessa se voi andate a vedere che non so Twitter è un esempio terribile se voi andate a vedere la pagina Twitter è vuoto l'HTML non c'è niente c'è un JavaScript che carica tutto tutti i vari pezzi l'HTML che arriva da Twitter.com è vuoto praticamente è una pagina bianca e poi tutto ciò che c'è dentro è stato poco per volta costruito dal JavaScript nella pagina andando a fare una serie di richieste di questo genere queste richieste sono appunto in gergo si chiamano richieste tipo Ajax come detersivo che in realtà sta per Asynchronous JavaScript and XML cioè chiamate in JavaScript Asincrone Asincrone perché sono indipendenti rispetto al cambio pagina vanno su dei tempi loro e quindi questo è il pezzo in più che in qualche modo collega le innovazioni lato browser con il lato server e permette di creare nuove tipologie di applicazioni allora torniamo indietro a vedere le tecnologie allora qui ho trovato da Wikipedia una tabellina che dice per i siti web più visitati al mondo Google Facebook Youtube Yahoo Amazon Wikipedia Twitter Bing Ebay MSN Microsoft LinkedIn Pinterest e Wordpress Tutta roba dai 200 ai 1600 milioni di persone al mese persone diverse che cosa usano come linguaggi? allora che cosa usano come linguaggio sul client sul browser? JavaScript tutti per forza è l'unico che il browser supporta il browser supporta JavaScript punto quindi lato client che linguaggi usi? JavaScript ci ha provato la Microsoft ad un certo punto a mettere dentro Internet Explorer il Visual Basic quindi tu potevi programmare un'applicazione web lato client o in JavaScript o in una cosa un linguaggio che si chiamava VBScript che era Visual Basic Script dentro la pagina non so se l'hanno usato loro non l'ho usato nessuno è morto subito come è nato non è vero in alcuni contesti è stato usato soprattutto per applicazioni Internet dedicate perché poi si legava molto bene Internet Explorer ma erano contesti molto limitati non è sopravvissuto al tempo e all'incedere della tecnologia quindi questo è e sarà per almeno altri 10 anni quello che si sta facendo è rendere l'interprete JavaScript dentro il browser sempre più veloce sempre più potente JavaScript è un linguaggio che è pieno di difetti perché è stato inventato quasi per scherzo da quelli della Netscape nel 1992 che era un linguaggetto molto semplice che permette di fare quattro cose in croce e poi su questo linguaggio si sono cresciute cose ma mantenendo una compatibilità con delle scelte che sono state fatte all'indietro scusate una compatibilità all'indietro con scelte che sono state fatte nei tempi lontani che purtroppo lo rende molto diciamo così difficile da debuggare essenzialmente non ha nessun controllo però è quello se lo teniamo punto invece lato server ognuno fa ciò che vuole perché ognuno fa ciò che vuole perché l'unica comunicazione che c'è tra client e server è sul protocollo HTTP su protocollo HTTP viaggiano dei file file JavaScript file CSS immagini e HTML come venga generato con l'HTML non ci interessa e quindi chi vuole adesso Google al lato server dichiara di usare C, C++ Go, Java e Python un miscuglio di tecnologie di linguaggi per fare i vari pezzettini Facebook usa PHP modificato da lui Python C++ Java e un altro paio di linguaggi esoterici come Erlang di Haskell che usano in pochi YouTube usa C, C++ Python Java Go e ovviamente YouTube e Google sono della stessa famiglia quindi usano le stesse cose Yahoo usa PHP Amazon usa Java C++ e Perl e così via Wikipedia usa PHP è un altro linguaggio Hack che non conosco non so neanche cosa sia Twitter usa C++ Java Scala che è un linguaggio che si monta su Java Ruby on Rails che è un altro framework basato sul linguaggio Ruby e così via ma ognuno fa le proprie scelte architetturali sul lato server mentre sul lato client si è bloccato sul lato server fai ciò che vuoi e così sul lato server c'è l'application server e qui c'è l'elenco dei linguaggi con cui l'application server è stato programmato e l'ultima colonna ci fa vedere l'elenco dei database che sono stati utilizzati cioè il DBMS cosa ho scelto come DBMS ad esempio Google usa MariaDB e poi Bigtable MariaDB che si chiama MySQL e Bigtable che sono fatti loro in casa Facebook usa una combinazione di 4 database diversi tra cui Cassandra che hanno contribuito a sviluppare e poi MariaDB MySQL eccetera e così via Postgres Oracle MySQL MariaDB Microsoft SQL Server la Bing ovviamente la Microsoft è assoluta quello ebay usa Oracle eccetera eccetera quindi lato server ciascuno crea le proprie architetture sui database c'è meno variabilità alla fine grossi robusti ci sono poi 4-5 database in grado di gestire un carico una complessità di carico dei siti web sul livello del linguaggio di programmazione invece c'è molta più variabilità questo schemino qua è un po' riassunto delle cose che chi vuole lavorare in ambito web deve conoscere vabbè allora il punto in cui siamo arrivati ora o meglio le pratiche correnti di realizzazione di applicazioni web odierne tendono ad andare verso quelle che si chiamano SPA single page application mettendo insieme tutto ciò che abbiamo visto cosa abbiamo? abbiamo una pagina unica HTML dentro la quale sono nascoste sono scritte in javascript una serie di cose una serie di librerie che ovviamente usano il DOM sotto e parlano con un server web in continuo quindi immaginiamoci che questa pagina HTML sia un pochino un foglio bianco una tavolozza nella quale il codice HTML cioè il codice JavaScript può scrivere e aggiungere cose per sapere cosa scrivere parla col server quindi in qualche modo la responsabilità di creare l'HTML l'abbiamo spostata prima era questo signore qua l'application server che creava l'HTML adesso l'application server crea un HTML minimale e il grosso del lavoro invece di completarlo riempirlo eccetera lo fa il JavaScript ci piace o no il grosso della logica della nostra applicazione non sta più sul server ma gira dentro il browser la quale l'applicazione ovviamente dovrà continuamente comunicare col server per fare poi per ottenere le informazioni i dati e per fare le operazioni perché il database sta e starà sempre sul server quindi questo però dà un vantaggio notevole per il fatto che ogni volta che l'utente fa qualcosa un'azione un movimento del mouse un click hai un codice che è lì subito sul browser sullo stesso computer che ti risponde a quel click e quindi la velocità di interazione è rapidissima addirittura questo codice JavaScript può andare a interrogare il server anche se l'utente non fa nulla se tu stai lì a guardare il JavaScript ogni tanto va a chiedere al server c'è qualcosa di nuovo e se c'è qualcosa di nuovo a chiedere una nuova mail ti aggiorna la pagina senza che tu abbia fatto nulla cosa che invece con il metodo precedente non era possibile e quindi questo canale HTTP che Tim Bernsley negli anni 90 all'inizio degli anni 90 91-92 aveva inventato per trasportare pagine web in realtà adesso per la maggior parte dei casi non trasporta pagine web ma trasporta dati l'ultima mail che è arrivata le parole completate quindi la tabellina con le parole dell'auto completamente e cose di questo genere quindi si riusa un protocollo che è stato pensato per uno scopo ma già che lì lo riusiamo per uno scopo diverso come integrazione di dati data integration sempre usando il protocollo HTTP poi ci sono dei nuovi protocolli ad esempio Spidi lo sta lanciando Google con successo intermedio web socket invece è uno standard che gli permette di mantenere una comunicazione bidirezionale mentre HTTP è solo monodirezionale è uno che fa richiesta l'altro che risponde mentre invece i web socket aprono un canale e permettono sia al server di mandare fare push informazioni sul browser e la maggior parte dei dati sono codificati in un formato che si chiama JSON JavaScript Object Notation cioè un formato abbreviato dei dati che è compatibile con la sintaxi di JavaScript guarda caso perché ovviamente devono poi essere elaborati dal JavaScript stesso qui si sono stratificati sopra questa possibilità di fare chiamate Ajax tutta una serie di tecnologie o di best practice essenzialmente molto diverse il ruolo del server non è più quello di centralizzare l'interazione ma è quello di fornire accesso ai dati in modo validato ovviamente in modo controllato certo perché quando il Java si dice dammi il contenuto di quella mail il server prima di darglielo controlla che lui abbia i permessi di poterla vedere non mi posso mai fidare anche se il mio software è scritto metà qui metà del server e metà nel browser non mi posso mai fidare di ciò che fa il mio software nel browser perché una volta che è nel browser chiunque potrebbe aver stoppato il browser modificato il mio codice e fatto funzionare una versione modificata quindi qualunque richiesta che arriva da qua devo sempre trattarlo in modo sospettoso e quindi tutta la validazione logica deve essere fatta sempre anche dal server e magari anche dal browser per aiutare l'utente a vedere gli errori prima che si verifichino è ben complicato il mondo di adesso ecco questo riassume i tre modelli vi ricordate vedete che la prima lezione avevamo fatto vedere una figurina in cui c'era la suddivisione dei vari ruoli tra client e server eccetera eccetera ecco questa figurina qua la personalizziamo trovata una nel suo stesso stile personalizzata ovviamente sulle tecnologie web allora qui ci dice quindi proviamo a rileggere il percorso che abbiamo fatto versione modello 1 applicazione web di tipo classico anni 90 ok allora abbiamo sul server abbiamo business services and data quindi i dati e la logica di business le logiche cosa posso fare cosa non posso fare come si fa un'operazione che dati devo modificare e così via e poi questo qua in verde c'è scritto user interface generation generazione dell'interfaccia utente sul browser c'è l'interfaccia utente che è stata generata dal server in su ci va la freccia che va su c'è html e css e la freccia che va giù sono richieste htdp quindi il browser fa richieste htdp qui viene fatto tutta l'elaborazione compresa la generazione dell'interfaccia utente questa interfaccia utente viene mandata al browser il quale semplicemente la visualizza passo due hanno inventato aiax quindi la possibilità per il javascript di interagire col server il javascript finchè non interagiva col server serviva a poco era solamente per effetti di abbellimento o di smussare un pochino l'interazione nella pagina ma di fatto non aggiungeva funzionalità vere quando abbiamo aggiunto aiax si è aggiunto uno strato in mezzo qua perché tu hai il server web che diciamo così la generazione dell'interfaccia utente è stata spezzata in due una parte sul lato server e una parte sul lato client dentro quello che qui è chiamato motore aiax cioè un codice javascript che sfruttando aiax può comunicare col server i dati sono rimasti nel server l'interfaccia utente è rimasta nel browser queste due cose non cambieranno ma la generazione dell'interfaccia e la logica no la logica è rimasta sotto nel rosso scusate la generazione dell'interfaccia si è divisa in due e quindi adesso abbiamo questo blocco aiax che manda delle richieste http e gli tornano indietro o dei pezzi di HTML delle parti di pagina oppure dei dati grezzi sotto forma di testo sotto forma di file json cose di questo genere dati grezzi che ovviamente questo motore provvederà a mettere in bella e inserire nell'interfaccia utente il passo dopo in cui abbiamo l'applicazione web sul client quindi tu quando clicchi su un sito la prima volta lui si scarica una tonnellata di javascript e poi il javascript prende il controllo della pagina e a quel punto tutta la generazione dell'interfaccia utente avviene sul browser qui l'interfaccia utente viene generata localmente e il dialogo con server avviene solamente per recuperare informazioni e ovviamente per dare i comandi del tipo manda questa mail salva questo messaggio salva questo dato e così via qui c'è sempre la logica di business sul server c'è sempre la logica di business la gestione del processo che cosa può essere fatto che cosa non può essere fatto quale utente può fare quale azione in quale momento eccetera eccetera questa non la possiamo delegare il server la deve controllare al massimo il client può anticiparne dei pezzi può già lui fare dei controlli in anticipo ma poi il controllo vero lo fa sempre il server quindi abbiamo spostato il verde c'è la generazione dell'interfaccia utente da sotto a sopra perché tutti amano scrivere javascript perché qua sopra ricordiamoci che è sempre codice javascript e sotto invece è codice in qualunque altro linguaggio forse sì forse no tutti amano le prestazioni tutti amano avere dei siti web che funzionano bene siano friendly per l'utente eccetera ma poi c'è un altro motivo che qua ho un'interfaccia utente che vive ancora dentro un browser quindi mi serve un browser che sia in grado di interpretare tutta sta roba ma se io non avessi più un browser ma avessi un'applicazione nativa l'app che vi scaricate sul cellulare quindi qua parla ad esempio a destra un'applicazione android un'applicazione diversa eccetera rispetto al server si può comportare nello stesso modo qui la figura è diversa perché l'ho presa da un sito diverso però torniamo su questa se vogliamo immaginate che al posto di web browser questa scatola grigia qua ci sia un'applicazione android su smartphone allora un'applicazione android un'applicazione iOS non sono un browser non lavorano in javascript se un'applicazione iOS sarà scritta o in C-Shar o in C Objective-C oppure in Zwift che sono i due linguaggi che iOS supporta se un'applicazione android sarà scritta o in Java o in Kotlin perché quelli sono linguaggi che non sono supportati con le loro liberie con i loro widget grafici eccetera eccetera nulla a che vedere poco a che vedere con l'interfaccia web ma una volta che con l'applicazione si è in grado di fare delle chiamate HTTP e di interpretare dei dati che gli arrivano sotto forma grezza come fagli testo posso avere un frontend diverso su una piattaforma diversa mobile ad esempio che usa le stesse identico backend lo stesso identico server per quello che ci piace tagliare così perché lo stesso backend alimenta tante interfacce utente diverse alcune web alcune mobile e chissà cosa arriverà dopo la cassa di supermercato che non è né android né web ma è un sistema dedicato che deve fare certe operazioni quindi è un'interfaccia utente completamente diversa completamente sganciata la facciano come vogliono purché parli HTTP e interpreti il JSON che torna indietro e tutto il valore la logica i controlli della nostra applicazione del nostro sistema informativo è rimasto qua giustamente in cassaforte poi ho tante interfacce utente diverse ma lo dico di più posso anche aprirla questo canale di comunicazione posso permettere a terzi di fare delle applicazioni delle interfacce alternative alternative aggiuntive queste sono alla fine poi le cosiddette API application programming interfaces una serie di chiamate che permettono di accedere se ovviamente hai i permessi le credenziali le passo aggiuste permettono di accedere a tutte le funzioni di questo sito allora se a te non piace l'applicazione android che ha fatto quella tal azienda te ne puoi fare un'altra tu purché usi le stesse API ovviamente che queste siano documentate e che tu possa usarle e quindi possono nascere applicazioni che integrano altri servizi a questo punto non lo vedo più come il sito web lo vedo come un servizio come un server che offre dei servizi e quindi anche dal punto di vista della catena del valore io non sto solamente più offrendo un servizio B2C business to consumer in cui ti vende un servizio e c'è l'interfaccia utente web mobile e allora ho un cliente che è l'utente finale che vuole usare il sito ma la stessa piattaforma la uso anche in modo B2B io metto a disposizione dei servizi su cui sono bravo a realizzare li metto a disposizione per te che ti fai la tua interfaccia il tuo sito il tuo altro sistema informativo che però per alcune cose usa il mio perché io sono più bravo di te a fare quelle cose e quindi te le vendo quindi questo livello attuale è quello che qui c'è scritto 2012 quindi stiamo parlando degli ultimi anni che sta prendendo forma alcuni parlano addirittura di API economy l'economia dell'API perché si tendono molto spesso a vendere servizi a livello di programmazione a livello di integrazione questo permette di consolidare chi è forte nell'offrirsi altri tipi di servizi e snellire rendere più veloce lo sviluppo di diciamo così servizi finali per utenti finali faccio l'API che integra questo con quell'altro integra le mappe con la geolocalizzazione col meteo e faccio l'API più bella della tua che ti trova nel ristorante e gli alberghi quindi permette di competere a livello di prodotto consolidando il livello di servizio tutto questo l'abbiamo capito in vent'anni ovviamente e è stato permesso dall'avanzare delle tecnologie web quindi questo è lo scenario attuale adesso tornando diciamo così nel nostro ruolo di progettisti dell'interfaccia la domanda che ci poniamo è immaginiamo di volere costruire un sito allora sulla parte di database di dati e di logica di business abbiamo già dato nel senso che abbiamo i vari modelli che lo specificano adesso chiediamoci sulla parte di interfaccia noi progettiamo una possibile interfaccia sapendo che in realtà potremmo progettarne diverse indipendenti che usano lo stesso servizio che però tenga conto quando progetteremo l'interfaccia dovremo tener conto delle limitazioni della specifica tecnologia quindi se è un'interfaccia fatta così avrà un certo tipo di interazione possibile se è un'interfaccia fatta così avrà un insieme molto più ricco di interazioni che l'utente può compiere se è un'interfaccia mobile invece avrò altre possibilità ma altre ne avrò in meno perché l'interfaccia mobile deve stare invece in uno spazio più limitato e così via quando facevamo i casi d'uso le narrative dei casi d'uso voi mi avete preso per pazzo quando dicevo sì io qua forse l'utente qua di sicuro dovrà schiacciare un bottone ma io non scrivo l'utente schiaccia un bottone scrivo l'utente conferma e adesso capiamo perché perché l'azione utente conferma è uno di questi comandi qua sotto un'informazione che viaggia dall'utente da un'interfaccia utente che sta sentendo l'utente al sistema che poi questa interfaccia utente sia veramente un bottone su una pagina web oppure uno swipe su un'interfaccia mobile il caso d'uso è lo stesso la sequenza di operazioni che devo fare è la stessa il modo in cui le visualizzo sarà diversa quindi non lo facciamo per motivi che siamo puramente accademici siamo puristi e quindi nel caso d'uso non ti metto nessuna parolina che ti faccia capire qual è l'interfaccia utente che ho in mente ma perché davvero l'interfaccia utente ne avrò più di una e nelle varie interfacce utente tutti dovranno seguire la stessa sequenza di operazioni gli stessi casi d'uso perché le informazioni che devono scambiarsi sono le stesse e gli errori che possono verificarsi le eccezioni sono gli stessi indipendentemente dall'interfaccia utente che faccio poi ovviamente magari decideremo che alcuni casi d'uso più complicati più articolati li facciamo solo nella piattaforma web e non in quella mobile va bene ma se un determinato caso d'uso è implementato su più interfacce segue la stessa logica di scambio di informazioni seguirà invece un approccio grafico completamente diverso ok? allora quello di cui ci occuperemo dopo la pausa è cominciare a impostare come ragionare sull'aspetto invece grafico e interattivo quindi ci vediamo tra un quarto d'ora grafico 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 grafico